lei lavora qua buongiorno buonasera questo unico e c'è ancora perché preso da manichina no 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 ce ne sono ancora sono qui vediamo che colori c'è grigio bianco azzurro e nero e tutto cashmere tutto cashmere le maioncini che abbiamo all'ingresso assi dopo guardo anche dicion che smatrice pisa 9 euro a 49 euro 49 euro mi piacerebbe anche questo colore si vero ma poi vedi come sono morbidi sono super caldi che non c'è rose antiche no purtroppo no in cashmere rosa no però comunque con il rosa l'azzurro e il bianco ci sta molto molto bene grazie mille posso sei grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille